Usciamo da questo campo con un po' di amarezza in bocca perché abbiamo disputato un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo siamo stati padroni assoluti del gioco, abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo subito molto poco avversari che di solito mettono in difficoltà le squadre che arrivano in questo campo. Peccato per il risultato, ma è un'ottima base per il futuro, la prestazione che siamo riusciti a fare oggi. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo e forse abbiamo sprecato anche qualche energia di troppo che nel secondo tempo si è vista, non avevamo più la stessa brillantezza, però nonostante tutto siamo stati bravi a non continuare a concedere occasioni agli avversari e a provare a crearne noi. Non siamo stati bravi a farne come ne abbiamo fatti nel primo tempo, però abbiamo messo i presupposti per portare a casa i tre punti, l'amarezza per non esserci riusciti e la soddisfazione per aver fatto una grandissima partita su un campo difficile. Provo a mettere in campo la formazione che posso pensare sia la migliore per la gara e credo che nel primo tempo i ragazzi che sono scelti in campo hanno rispettato un'ottima gara. Nella ripresa è entrato Christian e siamo stati bravi a continuare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo, quindi bravi tutti i ragazzi perché ne ho tanti bravi a disposizione e ovviamente di volta in volta sta a me fare delle scelte per provare a portare a casa sempre dei risultati positivi. L'ho visto bene in settimana, la società mi ha dato il via libera per se avessi voluto avrei potuto utilizzarlo e avendo disputato una settimana molto molto bella ho pensato di volerlo mettere in campo da subito e credo che ha ripagato questa scelta. Non mi sono creato obiettivi di punti, abbiamo voglia di continuare questo percorso cercando di prendere il più possibile quello che c'è da prendere, stiamo crescendo, abbiamo fatto tante vittorie, ovviamente abbiamo anche preso qualche bella batosta e mi auguro che nel tempo continuiamo a crescere per aumentare le prime e diminuire le seconde e provare ad essere protagonisti di un campionato è difficilissimo. Adesso stacchiamo la spina, ricopriamo le energie, poi ci sarà un mese in cui ci saranno tante chiacchiere, non so cosa succederà, io faccio l'allenatore di una squadra che rappresenta una città grandissima, importantissima e il mio unico obiettivo come ho detto il primo giorno è quello di dare tutto quotidianamente per provare a fare il massimo e a fine del campionato non avere nessun tipo di rimpianto, al di là di che altezza saremo in classifica. Tanti auguri di buon anno a tutti e ci vediamo anno nuovo sperando di poter continuare da dove abbiamo lasciato.